Fondi La squadra d'attacco ha trovato una cosa Prepararsi all'azione nemica Se rimani in questa zona il nemico ti scoprirà Già mi sa Sì, ho spinato pronto Sì, curalo Sì, curalo Sì, c'è, c'è, c'è Zoffia morta, zoffia morta Sì, c'è, c'è, c'è Sì, c'è, c'è, c'è C'è, 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 c'è C'è, 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 c'è C'è, 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 c'è Bilippo Scusate ma, com'è che ha plantato Che c'era la mia smoke dentro? Ha plantato dentro? Sto, lo so Troppa di filo Prezzo no? Non so Trovate una bomba, va a difesa ci credo è in garage fatto a zofia non c'abbiamo non cazzo non cazzo la squadra d'attacco ha piazzato un disiniziatore vicino a una bomba resta solo un operatore alleato la terra ma ma perché amore ssht e' zitto stai zitto porca troia basta vabbè porco di rega ho capito però però siamo inscrime miurli e miurli ho perso 10 secondi perché non sentivo un cazzo è comunque vaga come fabbora to questo ragazzo vuole per così c'è una cucina triccola non so che non è fatta quando si può quando vuoi quando si venga caricato si vengono non c'è credo sto tornando raga sto tornando guarda raga scala devo prendere mi ha ascoltato hai ancora una carica che hai detto hai ancora una carica si vuoi rompere la botola di logistica aspettate vabbè si è dentro in bomba ho fatto bandit ascoltatemi ascoltatemi e sulla porta di bomba porta di bomba verso main stairs giacomo gabriele dove stai mirando tu a sinistra però c'è o mai a sinistra gabriele termite a sinistra non è capire giovanni giovanni si chito chito alla tua sinistra alla tua sinistra chito lato no no detto che la città la 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 come cazzo non è morto come cazzo non è morto maestro regalo ma stiamo scherzando scala maestro c'ha uno di vita maestro un'altra un'altra cosa partia stavamo a m sese per come se c'è morto squadra d'attacco mi si è da il 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 maestro non lo so come non è morto io l'ho cliccato no raga ho visto io che le presentesce raga ho fatto ho fatto un push dentro ho ucciso bandit sto sfigato di gian era nell'angolo sinistro della porta sto sfigato raga dove dove chiamate vip tutti vip planta però piccolini in posizione la squadra è stato attivato un disinunciatore va distrutto resta solo un operatore alleato oh dentro tirata sbocca davanti e piccata l'ultimo avvocato è rimasto in vita lo so bro disinnescatore individuato distruggetelo da quale mamma mia zitti zitti ragazzi se hai fatto il clutch ci mi dà lì nooo nooo cosa ne fa vince la squadra d'attacco no giovane no aspetta aspetta fermo un po' hanno trovato una bomba è già il bancone morto siamo a 15 secondi ecco il primo nemico rimasto servizio servizio mamma mia vittoria alla difesa nemici eliminati ormai zax è confinato dove c'è dovevo vedere il termine ho una hp a una dove vai ultimo nemico rimasto è già me l'ultimo è tra le tanebrato scavalca bravi bella chiamata grazie grazie fai stai due di vita disattivate il disinnescatore disteso a destra disinnescatore individuato disattivate ultimo nemico rimasto mamma mia che cosa ha fatto che stavo guardando le camera bravi che cosa ha fatto bravo gli alleati hanno distrutto il disinnescatore shhh 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 guardate il drone il mio drone il mio drone il mio drone non c'è si qua c'è qua c'è è più verso sopra eh bro sono c4 in arrivo senti vaffanculo e faccio faccio bagno via bagno Sì, buonanotte. Mamma mia. Non. 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 No. 9 colpi. 9 colpi. Mamma mia che colpi. Che cazzo di time. Mi sento di time, e che cazzo di time. È finita? bravi però ho preso in testa ebana bravi raga comunque io pro si vanno in testa mentre passava del brice però vabbè porco di sei droppato giù droppato drop guys cioè c'ho 29 di vita 29 di vita avevo mi colpite la finestra mi colpite la finestra per favore vado entrato sono entrato sono entrato vieni nicola arrivo 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 1 1 finestra una finestra una finestra piccola però non mi chiamate davanti e che cazzo che cazzo che è che difensori mi passate davanti io non ho sparato perché sennò ti ha passato non avevo capito che stavi sparando su finestra ma va la testa tuttana rimane chiusa se rimani in questa zona è inizio a scoperta ma ti hanno scoperto torna indietro oh mio dio nomad appesa occhio la squadra d'attacco ha trovato una bomba se rimani in questa zona è inizio a scoprirà che hanno scoperto torna indietro vedo non 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 Grazie a tutti.